Dunque, riprendendo questo frammento di codice che avevamo scritto velocemente prima dell'intervallo, io quello che ho sostenuto prima è che questo codice rappresenti questo diagramma di flusso che abbiamo qua sulla destra. È importante quando ragioniamo su questi algoritmi, su questi flussi, ogni volta che abbiamo, adesso stiamo parlando di costrutti condizionali, quindi di if, ma vale per tutti gli altri tipi di costrutti, i cicli, i width eccetera eccetera, che via via scopriremo, è la cosa fondamentale avere idee chiare su dove comincia e dove finisce ciascun blocco. Deve esserci un punto unico in cui comincia e un punto unico in cui finisce. E quindi questo è ciò che ci permette di vedere, tra virgolette, come una scatola nera una determinata parte del programma. Lì dentro c'è una certa cosa. Per poter dire c'è una certa cosa, per noi diventa un blocco, più tardi diventerà una funzione, diventerà qualcosa che si può isolare, si può ragionare separatamente, deve avere per forza un punto di inizio e un punto di fine. Quindi qui abbiamo una if che è un blocco, che contiene al suo interno un condizionale che inizia qua e finisce qua. L'intero blocco è composto dal condizionale e dalla stampa. Il che è tutto fa un blocco che è uno dei due rami di un condizionale più ampio che è questo, che è fatto di due blocchi, quello di sinistra e quello di destra. Dobbiamo abituarsi a pensare, si dice in gergo, in modo strutturato. Poter avere dei costrutti base che sono la condizione, l'esecuzione eccetera e combinarli tra di loro in modo molto ordinato. Qui avremmo avuto un unico blocco, che era questo, che iniziava qua, aveva tre condizioni diverse e aveva un punto di uscita unico, altrettanto valido. In questo caso non era utile alla risoluzione più comoda di questo problema. Quindi che noi lo vediamo tramite scatole annidate, un disegno ben ordinato di un diagramma di flusso, o che lo vediamo tramite istruzioni indentate, rientrate all'interno di un programma Python, il modello mentale è lo stesso. Cose dentro cose dentro cose. Ok? Quest'istruzione qua, la riga 20, sta dentro una condizione else di un blocco, il quale blocco intero, che è questo, è a sua volta condizionato da una condizione else, che dipende ovviamente dalla condizione, dal confronto che ho fatto alla riga 12. Ok? Quindi se noi volessimo seguire l'esecuzione di questo programma, devo innanzitutto buttarvi il resto, o meglio commentare questa versione vecchia. Metto un breakpoint alla riga, no anche questa devo toglierla, alla riga 13 e vediamo cosa succede. Allora vado in modalità debug. Se voglio andare al piano 4 cosa succede? Arrivo qua, piano uguale a 13 è falso, è la condizione in più che abbiamo messo davanti a tutti, la guardia che abbiamo messo alla porta d'ingresso. Sei normale o no? Sì, sono normale perché sono diverso da 13. E allora vai nel caso normale. E nel caso normale, se è minore di 12, eseguirà l'istruzione che ha adesso la riga 18 e la stampa che ha la riga 21. Poi, se sono normale ma grande, esempio che facevamo sempre dal al 20, lui parte dalla riga 12 in cui si chiede se è un piano strano, no, e allora sono nel caso normale, in cui in questo caso è un normale maggiore di 12, allora eseguirà l'istruzione alla riga 20 e alla 21. Se invece effettivamente sono nel caso strano 13, allora entro in un ramo completamente diverso, caso anomalo, che in questo caso si risolve semplicemente con una stampa alla riga 14 e poi il programma finisce perché non c'è più nulla sotto. Se il programma volesse andare avanti, potrebbe andare avanti tranquillamente dalla riga 22, tutto a sinistra, senza più nessuna indentazione, senza più nessun rientro, e in quel caso sarebbero istruzioni che vengono fatte in ogni caso qualunque cosa sia successo prima. Perché ho ricongiunto tutte le diramazioni e poi proseguo a questo punto sul flusso principale del programma. quindi noi possiamo, a seconda delle scelte che dobbiamo fare, possiamo combinare dal punto di vista del linguaggio, possiamo combinare a piacere if, elif o else in un'unica catena come abbiamo fatto prima, if, elif, 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 else, un numero di elif può essere arbitrario, oppure in blocchi annidati, quindi avere una if all'interno di un'altra if, mantenendo ovviamente l'ordine del codice, ma soprattutto l'ordine mentale, non c'è nessun limite, ok? Se non quello della nostra capacità di tenere tracce delle varie alternative. Un altro dettaglio che volevo citarvi, che non salta fuori in questo esercizio, è che else è una parola opzionale. Quindi io posso avere delle if in cui dico if, che ne so, piano uguale a 0, print qualcosa a terra, sei già qui, e anzi magari possiamo farlo qua, scusatemi. Nel caso in cui il piano reale sia il piano 0, ti devo dire che in realtà non devi muoverti. quindi if, piano reale uguale a 0, print, sei già qui. else non ho niente da fare, perché o stampo questo messaggio che sei da qui, oppure non stampo nulla. Allora in questo caso la parola else è opzionale, si può non mettere. Quindi la forma minima di un'istruzione è if, condizione, blocco, finito lì. Poi posso avere if, condizione, else, altro blocco, oppure posso avere if, elif, 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 da 1, 2, 3, quante volte voglio, e poi finire con o senza un else. In una sequenza di elif ovviamente la prima che vale, viene preso il primo ramo in cui la condizione è vera, tutti quelli successivi vengono buttati via. Se c'è una clausola else in fondo viene eseguita se tutte le condizioni che ho incontrato erano tutte false, tutte non veritiere. Quindi il costrutto base è if, blocco, 1, 0 o 1 o 2 o 3 sequenze di elif con altre condizioni, ciascuna col suo blocco e poi eventualmente una else in fondo. L'unica obbligatoria è if e tutte le altre sono opzionali. Else se c'è e deve essere l'ultima. Elif ci può essere più volte in mezzo. If ed elif hanno la parolina if e quindi hanno bisogno di una condizione per indicare quando devo eseguire il blocco corrispondente. Poi i blocchi sono tutti rientrati correttamente, che abbiano un'istruzione che ne abbiano due, che il rientro, tra l'altro come se vedete qua l'editor ci aiuta con queste lineette verticali a dire guarda questo else qua si mangia tutta questa parte qua di codice, questo if qua si mangia solamente quest'istruzione, cioè condiziona solo quest'istruzione, questo if condiziona solo quest'istruzione, mentre questo else condiziona tutte queste righe, questa riga verticale ci aiuta a vedere anche visivamente raggruppato quel blocco lì. Tra l'altro addirittura se avessimo dei programmi complicati possiamo addirittura collassare le cose per dire ok qui c'è il blocco else, è il blocco normale, non lo guardo e mi concentro sul resto, per non vedere tutto il codice insieme e non avere poi un raccarico cognitivo. Dentro l'else c'è roba, ok, poi quando voglio apro l'else e lo vado a vedere, lo vado a sviluppare. Ok, queste sono cose che abbiamo fatto interattivamente, sulle slide le trovate in punti diversi ma ovviamente ci sono, però io preferisco lavorare sull'esercizio soprattutto insieme a voi piuttosto che non recitare le slide. Quindi queste sono tutte le cose che abbiamo detto, questa non l'ho detta e non ve la dico, la possibilità di fare un'espressione if su una riga sola, ma non ve lo dico. Noi ho dato per scontato alcune cose, quando le ho scritte, ho dato per scontato che si potesse scrivere piano minore, piano uguale, no? Perché volevo concentrarmi sul controllo dell'esecuzione. Ovviamente c'è tutta una sintassi anche per indicare i confronti, maggiore, minore, uguale, non c'è nulla di difficile qua. Semplicemente bisogna ricordare che si può fare un confronto di maggiore, minore, maggiore uguale, minore uguale, oppure uguale e diverso. Sono questi sei operatori di confronto principali, dove gli unici due a cui bisogna fare attenzione a cosa scrivo, sono l'uguale e il diverso che si scrivono, il confronto di uguagliante si scrive col doppio uguale e il confronto di diversità si scrive con punto esclamativo uguale. Il confronto di uguaglianza si scrive col doppio uguale. Quando io ho scritto ispiano uguale a 13, non ci ho posto l'attenzione, non ve l'ho fatto notare, ma ho scritto piano uguale uguale a 13. Perché il simbolo di uguale singolo già lo stiamo usando per l'operazione di assegnazione di un valore di una variabile. Allora non si possono confondere due cose, l'assegnazione di un valore di una variabile cambia il valore di una variabile, non fa nessun confronto, prende e sbatte dentro. Il confronto prende due valori e mi dice se sono uguali o no senza modificare l'uno o l'altro. Quindi proprio perché sono due cose completamente diverse, praticamente in tutti i linguaggi di programmazione si usano simboli diversi. Se noi provassimo a mettere un uguale qua, non me lo lascia fare. Perché all'interno di una condizione che mi dà un errore, all'aspetto del token uguale, cioè il carattere uguale qui non è previsto. Per fortuna, rispetto ad altri linguaggi in cui mettere l'uguale qua sinteticamente corretto ma ha dei risultati tipicamente disastrosi, perché normalmente risulta vero e modifica la variabile, in Python non è possibile farlo. Quindi ricordiamocelo perché l'uguale non funziona perché devo raddoppiarlo qualora stia facendo un confronto tra due valori, che è poi quello che c'è scritto su questa slide qua. Le operazioni di confronto valgono anche, valgono non solo per i numeri ma anche per le stringhe. Perché sono un tipo predefinito del linguaggio e quindi è possibile verificare se due stringhe sono uguali, se due stringhe sono diverse, se una stringhe è minore o maggiore di un'altra, anche se il concetto di maggiore è minore, è un po' complicato nel caso delle stringhe, e la verifica viene fatta carattere per carattere. Quindi per confrontare due stringhe io vado prima di tutto a confrontare la prima lettera. Se la prima lettera è uguale o diversa, questo dice che le due stringhe sono uguali. Se la prima lettera è diversa, questo dice che le due stringhe sono diverse. Se la prima lettera è uguale, allora vado a vedere la seconda. Se la seconda è diversa, allora sono diverse. Se la seconda è uguale, allora vado a vedere la terza e così via. Quindi di fatto quando confronto due stringhe io le leggo in parallelo da sinistra verso destra, appare il numero di caratteri, appare gli indici di caratteri e mi concentro la prima volta che trovo una differenza. Quella prima differenza mi dice qual è il valore delle due stringhe, il valore di confronto delle due stringhe. In questo caso vediamo che John Wayne e Jane Wayne, già la seconda lettera scopro che sono diverse. Posso scoprire che sono diverse perché magari la lettera V maiuscola e la lettera V minuscola sono caratteri diversi, quindi in questo caso queste due stringhe sono diverse e quindi sarà falsa la condizione nome 1 uguale a nome 2. Se una stringa finisce prima dell'altra, una più corta dell'altra, chiaramente sono diverse, non possono essere uguali se non hanno la stessa lunghezza e così via. Ma in più questo mi dice anche il criterio di ordinamento, cioè chi è minore e chi è maggiore. Uguale a diverso è facile, è uguale se è identica, è diverso se non è identica. Ma chi è maggiore e chi è minore? Allora in questo caso, ad esempio nel primo caso, la seconda è minore della prima. Ma perché? Perché la A minuscola, la A viene prima della O. Nell'ordine alfabetico la A viene prima della O. Ma il confronto tra stringhe segue l'ordine alfabetico? No. Segue un ordine dato dal codice Unicode delle lettere, quello che noi chiamiamo un ordine lessicografico basato sul codice Unicode. Per fortuna chi ha fatto il codice Unicode non era troppo ubriaco e quindi le lettere maiuscole sono tutte di fila nell'ordine alfabetico, le lettere minuscole sono tutte di fila nell'ordine alfabetico, quindi sto confrontando lettere maiuscole tra di loro, il confronto nell'ordine lessicografico, cioè il codice intero Unicode coincide con l'ordine alfabetico. Quindi Jane Doe viene prima, è minore, Jane Wayne viene prima di John Wayne. Perché il codice, questo come sempre non fidiamoci delle mie parole. Prendiamo la REPL e vediamo che il codice Unicode dell'A minuscola è 97, il codice della O minuscola è 111 e quindi il fatto che l'A minuscola sia minore della O minuscola è un fatto vero, perché 97 è minore di 111. E questo si trasla anche su stringhe, J A è minore di J O, perché le due J sono uguali quindi vado a vedere il secondo carattere ed è minore. Se invece mi chiedete se sono uguali ovviamente migliorati, no. Questo è un caso semplice, ma nel caso del V grande e V piccolo, chi viene prima e chi viene dopo? Chi è maggiore e chi è minore? E beh, volendo dovrei andare a vedere che la W piccola ha codice Unicode, in questo caso sono ancora lettere ASCII, quindi ha codici piccoli, facili, numeretti facili da gestire, rispetto alla V maiuscola che ha il codice 87. Quindi una lettera maiuscola ha un codice ASCII Unicode minore di una qualunque lettera minuscola. Quindi in questo caso tra queste due stringhe la minore sarebbe questa. Perché nella prima differenza, nel primo carattere in cui fanno differenza ha un codice ASCII minore. Quindi non va tanto bene questo confronto di stringhe se volessimo mettere, rimescolare o mettere in ordine delle stringhe che contengono un mix di lettere maiuscole e minuscole. In quel caso dovessimo confrontarle, perché la maiuscola vincerebbe sempre, sarebbe sempre prima della minuscola. Se volessimo confrontarle, verrebbe magari convertire tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo e poi fare il confronto. Cosa che comunque non è così semplice perché le lettere accentate sfuggono a questa regola. Perché se io prendo la E accentata ha un certo codice, se io faccio upper, che ha un codice che è diverso. Quindi in questo caso il codice 201, la E maiuscola accentata ha codice 201, ma se io vado a vedere, quindi supponiamo mettere tutto in maiuscolo, la E maiuscola ha codice 69. Quindi la E accentata verrebbe molto dopo tutte le lettere, anche dopo la Z. Quindi il confronto di stringhe non ci dà, nel caso generale, di lettere miste maiuscole e minuscole o di lettere con caratteri accentati, non ci dà l'ordine alfabetico. Noi abbiamo inventato questo termine ordine lessicografico per dire ci dà quell'ordine che ci dà e ce lo facciamo piacere. Però un'alfabetico vero è un casino. Così come lo vedete, noi abbiamo l'elenco dei nomi, alcuni di voi hanno il nome con lettera accentata, alcuni di voi hanno il nome con uno spazio dentro e se prendi quei nomi e li metti in ordine alfabetico con un programma in Python ti saltano fuori da un modo. Se li metti in Excel e chiedi di mettere in ordine alfabetico te li ordini in modo diverso perché ad esempio lo spazio viene considerato in modo differente. Quindi è un problema non così banale, no? Come sembrerebbe dire, mettere in ordine alfabeticamente i nomi. Quindi confrontare numeri interi non dà problemi, maggiore, minore, uguale, va bene. Confrontare stringhe si fa sapendo qual è la regola, sapendo come funziona, carattere per carattere vince il primo carattere diverso sulla base del codice Unicode. Confrontare numeri reali non dovrebbe essere diverso da confrontare numeri interi se non fosse che abbiamo già scoperto, quando giocavamo con i numeri, che le operazioni sui numeri reali non sono mai affidabili, nel senso che danno un risultato che è sempre approssimato. E quindi, qui ho usato un esempio esagerato che dice faccio la radice 2 e poi faccio il quadrato della radice 2 e non mi viene il 2 esatto, ma mi viene una cosa diversa. Quindi se mi chiedo se il quadrato della radice 2 è uguale a 2, la risposta sarà no, per carità. La radice 2 è un numero irrazionale e me lo posso anche aspettare. Però abbiamo visto l'altra volta che 0,1 più 0,2 non fa 0,3. Se qualcuno dormiva quella volta, se io faccio 0,1 più 0,2 il risultato non è 0,3 ma è 0,3 e 0,4. Che a tutti gli atti pratici, a meno che non siate al CERN, che andate a misurare le particelle subatomiche, ma questo è 0,3. L'errore di rappresentazione è talmente lontano che non sono neanche i contatti di quegli zeri, chi se frega, per qualunque applicazione ingegneristica o reale è assolutamente identico quel numero lì a 0,3, ma matematicamente non lo è. Quindi se mi chiedo se questo è uguale a 0,3, la risposta sarà no. Quindi ogni volta che voglio confrontare dei numeri reali tra di loro, devo dimenticarmi che esiste l'uguale o il diverso. Cioè uguale al diverso no, non lo usiamo. Dovremmo usare dei confronti approssimati. Allora diciamo qual è la tolleranza che accetto. Mi basta la tolleranza di un millesimo, di un milionesimo? Allora vado non a confrontare se i due valori sono uguali, ma se sono vicini a meno della tolleranza. Quindi il valore assoluto della loro differenza è minore di una certa tolleranza che decido io. E questa è un'operazione talmente frequente che esiste già una funzione di libreria che si chiama isClose che fa esattamente questo. La funzione isClose verifica se due numeri sono simili, abbastanza vicini tra di loro. Quindi 0,1 più 0,2 e 0,3 non sono uguali, ma se mi chiedo, per importare la libreria matematica, mat.isClose tra 0,1 più 0,2 e una funzione che ha due parametri, i due numeri che sto confrontando e 0,3, mi dice che sono vicini. Sono se io invece avessi 0,3,3,3,1 mi dice che non sono abbastanza vicini. Ok? Quindi se io voglio confrontare due numeri non scriverò mai if a uguale uguale b, ma scriverò if mat.isClose a virgola b, che mi fa il confronto con una certa tolleranza. Quella formuletta vera che usa è questa, dove c'è un errore relativo e un errore assoluto che viene tollerato. l'errore assoluto è il valore assoluto della differenza. L'errore relativo è il valore assoluto della differenza diviso il numero che sto misurando, quindi lo dai in percentuale, tanto per capirci, e ci sono dei valori di default sul valore relativo, sull'errore relativo che è di 10 alla meno 9, dice la documentazione ufficiale. Quindi normalmente la funzione isClose mi accetta come uguali, considera uguali i numeri la cui differenza sia in error relativo 10 alla meno 9 vuol dire che sono 10 alla meno 7%, ok? Un decimilionesimo di punto percentuale, che è piccolo, però si possono volendo modificare questi parametri. aggiungendo le funzioni isClose dei parametri aggiuntivi che sono reltot o abstot e gli diciamo in questa formula che dai usa cambia il valore di queste costanti che indicano l'errore che voglio dare. Quindi ad esempio se io volessi un errore assoluto, sono uno grezzo e quindi mi basta un errore assoluto di 0,1, abstot, come si chiama, abstol, scusate, tol per tolleranza, mi dice che 0,1 più 0,2 e 0,3001 3,001 quello che è con una tolleranza di 0,1 tolleranza assoluta di 0,1 quindi un decimo, sono uguali per lui sono io che gli ho detto di avere una tolleranza molto molto larga dipende da cosa voglio misurare però il valore 10 al meno 9 lo possiamo ottenere per buono a meno che non abbiamo qualche esigenza specifica poi maggiore e minore maggiore e minore funzionano bene non c'è molta differenza tra maggiore e maggiore uguale proprio perché l'uguale è un valore quasi casuale se è uguale o no e quindi tendiamo a non usarlo tra numeri reali useremo maggiore e minore e isclosed per confrontarlo sullo string ho detto quello che ho detto prima ok questa parte qua sull'edizione dei dati è quella che abbiamo visto prima quindi vado solo a recuperare gli argomenti che ci servono sempre parlando di confronti qui parla dell'elif ah questo è utile poi dopo arriviamo ai ai confronti complessi a volte quando strutturiamo il codice ci viene magari da scrivere prima i blocchi e poi le istruzioni io prima ho scritto proprio per scrivere questo programma ho scritto if piano uguale 13 due punti e però qui c'era del codice che non ho ancora scritto quindi ho scritto questo nel caso è anomalo e poi devo andare all'else per dire qualche cosa altro no? che ne so, print, ok che ne so detto così scritto così è sbagliato vedete che c'è un errore sull'else perché il blocco if non contiene nessuna istruzione un blocco deve contenere almeno un'istruzione un commento non è un'istruzione e quindi mi non mi permette di provare il programma fino a quando non scrivo qualche cosa anche in quest'altra parte allora di sicuro ci dovrò mettere qualche istruzione prima o poi ma magari mentre lo sto scrivendo mi piace sviluppare prima una parte e poi l'altra e quindi per quest'altra gli devo dire stai buono? aspetta un attimo ok? lo scrivo dopo ma nel frattempo non posso farmi provare l'altra metà senza darmi errore allora per questo serve questa istruzione stranissima che si chiama pass che vuol dire non far niente e non rompere non rompere l'ho aggiunto io non c'è sul manuale c'è un'istruzione che non fa nulla ma sintaticamente è un'istruzione e quindi la posso mettere dove serve un'istruzione è un segnaposto non ho bisogno di far nulla e quindi in questo blocco so che c'è un'istruzione che non fa nulla poi prima o poi la devo cancellare e scrivici il codice vero ma nel frattempo io vedete che mi è sparito l'errore di sintassi sottolineato in rosso perché adesso sinteticamente è corretto è un'istruzione che nel ramo if non fa niente e nel ramo else fa la print quindi può essere comodo soprattutto mentre scrivo il codice per poi andare a per posticipare diciamo così l'espansione di una parte del programma che poi dovrò andare a riprendere dopo non è da usare come non è da usare come soluzione definitiva a volte vedo qualcuno che si dimentica che else è opzionale e quindi vede if piano uguale 13 print errore else pass perché dice ok se devo stampare un errore se no non ho niente da fare allora ci metto un'istruzione che non fa niente ecco questo qua non serve perché se non devo fare niente semplicemente non metto l'else ok quindi questo qua questo pass di solito lo accompagniamo da un commento commento to do del tipo ricordati che per finire il programma devi ancora fare questo pezzo qua tra l'altro il to do come vedete viene evidenziato perché è una convenzione che c'è abbastanza forte nei commenti se scrivo to do è qualcosa che mi devo ricordare di finire ok ehm torniamo al nostro esercizio quindi togliamo queste parti qua commentiamo in blocco ecco immagino noi abbiamo visto che anche qualcuno ci ha già lavorato nell'intervallo questa condizione in cui l'unico caso anomalo che abbiamo considerato è un piano uguale a 13 ma se volessimo considerare invece i piani negativi come anomali allora se volessimo considerare i piani negativi come anomali vabbè ormai abbiamo capito il gioco aggiungiamo una condizione davanti if piano minore di 0 e cosa dobbiamo fare se piano quindi scriveremo if piano minore di 0 o minore uguale decidete voi e cosa faccio stampo o piano inesistente e l'if sia nel caso piano minore di 0 questo qua funziona no? prima controllo i numeri negativi se non è negativo vado avanti controllo se è 13 se non è 13 vado ancora avanti finalmente sono nel caso normale però sia nel caso negativo che nel caso 13 in realtà devo fare la stessa cosa allora la domanda legittima è ma possiamo mettere insieme queste due condizioni questi due casi? visto che devo fare la stessa cosa posso scrivere una condizione qui che sia vera sia nel caso dei piani negativi sia nel caso del piano 13 sì se non ve lo chiederei usando degli operatori di congiunzione tra condizioni i cosiddetti operatori booleani cosa significa? significa che esiste un nuovo tipo di dato che non è intero non è reale ma è un tipo di dato che è stato pensato per calcolare memorizzare ed elaborare delle condizioni che possono essere vero o false cioè io voglio scrivere qualcosa parto dal punto d'arrivo questo voglio scrivere se il piano è negativo o il piano è uguale a 13 non va bene quindi cosa ho fatto? ho costruito un'espressione di verità che combina tra di loro due espressioni di verità più piccole piano minore 0 può essere vero o falso piano uguale a 13 può essere vero o falso io combino questi due valori di verità che entrambi possono essere veri o falsi in un unico valore di verità scrivendo oppure ok? quindi io considererò vera questa espressione se questo è vera oppure se l'altra è vera oppure se tutte e due sono vere questo è il significato del termine oppure come viene inteso in informatico quindi ci dobbiamo dare delle regole su che cosa vuol dire queste cose e queste regole sono quelle che derivano dall'algebra che ha inventato il Boole nel XIX secolo prima ancora che ci fosse anche la minima idea di che cos'era un computer lui voleva lavorare sulla logica del linguaggio e ha definito formalmente queste tre funzioni booleane booleane perché prendono il nome da bool and or e not attraverso le quali si definisce cosa vuol dire combinare tra di loro dei confronti più piccoli per ottenere dei confronti più grandi dei valori di verità più grandi ad esempio se io ho un'istruzione python di questo genere se la temperatura è maggiore di zero e la temperatura è minore di 100 stampa liquido tempo è una variabile tempo è maggiore di zero è un confronto un confronto può essere vero o falso l'esito del confronto può essere vero o falso qua c'è un altro confronto e per poter fare questa print è necessario che entrambi questi confronti siano entrambi veri questa tabellina mi dice che se A è vero il primo pezzo e B è vero il secondo pezzo allora A and B lo considero vero in tutti gli altri casi lo considero falso quindi se questa fosse falsa ad esempio temperatura meno 1 meno 1 non è maggiore di zero quindi questo pezzo è falso meno 1 è minore di 100 quindi questo pezzo è vero ma avrei falso and vero che è falso and vero che è falso cioè complessivamente viene considerata una condizione falsa quindi operatore and mi serve per costruire una condizione complicata complessa, articolata in cui tutti i singoli pezzi devono essere veri altrimenti non va bene l'operatore l'operatore dove è andata or fa il contrario l'operatore or mi richiede che almeno una delle condizioni sia vera quindi in questo caso nel mio caso del mio esempio il piano è inesistente se il piano è minore di zero è allora inesistente indipendentemente da cosa è l'altra condizione se è vera questa è vero tutto cioè è vero che il piano è inesistente oppure se il piano è uguale a 13 tra l'altro in questo caso queste due condizioni per come sono costruite non potranno mai essere vere contemporaneamente non posso avere un piano negativo che sia anche uguale a 13 se mettessi un end qui farei un errore perché chiedo che siano vere contemporaneamente due cose che non potranno mai essere vere contemporaneamente metto un or perché mi basta che una sola delle due sia vera per cadere nel caso di anomalia quindi questi valori and e or lavorano con dei valori che non sono numerici ma sono valori booleani valori logici qui quando abbiamo scritto true e false in realtà true e false sono dei valori veri dove andate? qua mi stampa true quando mi ha fatto i nostri esempi per dire se se i due numeri sono uguali o diversi questo false true che stampa python non è altro che il valore di un tipo di dato nuovo che è il tipo di dato booleano che può contenere dei valori quindi io posso scrivere ad esempio a uguale 10 maggiore di 3 qui sto facendo un confronto quindi tutti gli operatori di confronto che abbiamo visto prima maggiore uguale minore is close eccetera generano dei valori logici dei valori booleani il risultato di 10 maggiore di 3 non è un intero è un valore logico questo valore logico è lo posso mettere in una variabile a che a questo punto sarà di tipo booleana logica e il valore di questa variabile è true in questo caso specifico i numeri interi le variabili tipo int possono assumere tutti i valori interi le variabili tipo boolean possono assumere solo due valori una variabile booleana o è true o è false e in python si scrivono appunto true e false sono delle così come 3 è una costante intera di tipo int true è una costante di tipo bool e si può usare nell'espressione si può usare come valore è un tipo di dato in più interi string, float e bool è un altro tipo di dato in più che come tipo di dato ha le sue regole viene generato normalmente dagli operatori di confronto e viene elaborato da dalle operazioni booleane AND, OR e NOT il NOT chiaramente inverte il vero lo fa diventare falso il falso lo fa diventare vero con delle regole matematiche che sono date da queste tabelline di verità queste tabelline qua è come immaginate la tabellina della moltiplicazione dove avete la moltiplicazione tra i numeri tra 1 e 100 purtroppo i numeri interi sono infiniti quindi uno non può fare tutte le moltiplicazioni possibili invece sui numeri booleani che sono finiti ho due valori ho quattro casi in tutto fatta questa ho fatto tutte le possibili OR del mondo quindi queste espressioni qua mi calcolano un valore booleano che viene poi interrogato dall'istruzione condizionale IF l'IF si vede un'espressione e questa espressione deve essere di tipo booleano ok? se poi è vero lo fa se è falso invece farà il ramo else nel caso in cui esista queste espressioni booleane possono essere semplici espressioni booleane cioè semplici confronti oppure espressioni booleane complesse fatte di più confronti messe insieme da valori logici tra l'altro sono variabili come tutte le altre quindi se uno scrivesse anziché scrivere così IF condizione booleana complessa blocco di istruzioni potrebbe calcolarsi questa espressione qua la mette in una variabile che sa come abbiamo fatto quella prima A uguale 10 maggiore di 3 questa variabile avrà un valore vero o falso che può essere interrogato nella IF tranquillamente quindi questi valori logici li possiamo salvare nelle variabili e poi usare dopo e poi ricalcolare successivamente sono tipi di dati nuovi che ci servono proprio per dare nutrimento alla IF la IF sceglie sulla base di una condizione questa condizione è una condizione logica che si basa su confronti e combinazioni di questi confronti quindi mettiamo insieme questi due questi due mondi facciamo attenzione perché sulle condizioni complesse è molto facile confondere and e or a mente quindi dobbiamo pensiamo veramente al valore se questo è vero e questo è falso facciamoci i casi possibili perché a volte mi è come dici quando ho scritto questo mi è scappato di scrivere and l'avevo scritto poi ho corretto purtroppo è rimasto registrato perché ho messo and ma perché ho pensato male ho pensato ok sono in una condizione sbagliata se è negativo e anche se è al 13 sono due cose no? sono due casi possibili il problema è che logicamente devo dire se si verifica almeno uno dei due invece invece and non vuol dire se verifica quello e quell'altro scrivendo and chiederei che si verificassero contemporaneamente cosa che abbiamo visto che non è possibile ok? quindi prima di scrivere un'operazione con and e or prendetevi sempre due secondi per pensarci no? e non andate di getto perché a volte la formulazione dice di essere controintuitiva rispetto alla frase che diciamo in linguaggio naturale no? vabbè l'operatore NOT inverte una una condizione quindi ad esempio qua fa vedere due condizioni che sono praticamente equivalenti qui dice se non stai frequentando oppure il voto è minore di 60 ti stampa vuoi abbandonare? oppure se stai frequentando e il voto not grade maggiore di 60 vuol dire che il voto non è vero che sia minore di 60 cioè maggiore uguale di 60 allora puoi rimanere no? quindi queste due condizioni di fatto sono l'una il contrario dell'altra un caso in cui tu stai frequentando e hai un bel voto va bene se no non va bene ma il se no vuol dire che o non stai frequentando oppure stai frequentando è un voto basso vedete l'or che c'era sopra sulla prima delle due o non stai frequentando o hai un voto basso in entrambi i casi e quindi a voce purtroppo dire un and non va bene quindi devi abbandonare però devi abbandonare se si verifica almeno una delle condizioni invece puoi rimanere se si verificano entrambe le condizioni di essere frequentante e di avere dei bei voti allora c'è un and tra queste due condizioni ok? poi questa stessa cosa si può anche riscrivere molte volte il not che complica soprattutto quando abbiamo un po' le doppie negazioni ci perdiamo facilmente in questo caso è molto facile eliminare il not perché il not di un minore è il maggiore uguale questo lo sappiamo fare facilmente dalla aritmetica quindi il not di un uguale posso usare direttamente l'operatore diverso quindi in qualche modo si cerca di semplificarle questa espressione quindi qua c'è scritto bisogna sempre pensarci bisogna fare attenzione se si deve usare or o no poi visto che ma non vi infliggo queste cose visto che questi sono valori di un'algebra formalmente definita esiste tutta una serie di regole no? l'end commutativo associativo distributivo eccetera poi che sono delle regole che per chi le ha imparate li possono aiutare a semplificare alcune volte espressioni complesse però non andiamo ad addentrarci troppo in questa in questa in questa parte come visto che è un tipo nuovo i booleani come si relaziona con gli altri tipi di dato noi sapevamo che c'erano le intere le stringhe potevo convertire da intero stringa con str e da stringa intero con int e bool? bool lo posso posso convertire in in booleano anche dei valori che hanno un tipo diverso quindi un intero viene considerato booleano se è diverso da zero scusate viene considerato true se è diverso da zero quindi io non posso scrivere if 3 no? scusate if 3 indenta pass o meglio non avrebbe molto senso detto così tre cosa no? quando io metto dentro un if una condizione che è non è un numero booleano non è un tipo booleano ma è qualche cos'altro viene automaticamente convertito in booleano secondo queste regole qua tutti i numeri sono considerati veri tranne lo zero che è considerato falso tutte le stringhe sono considerate vere tranne la stringa vuota che è falsa e poi vedremo sulle liste tutte le liste sono considerate vere tranne la lista che non contiene nessun elemento che è considerata falsa e cosa di questo genere no? quindi questo ci permette di avere delle scorciatoie che non è detto che mi piacciono sempre ma quando le devo scrivere io poi se uno lo scrive è certamente corretto anziché scrivere se una stringa non è la stringa vuota che è il modo corretto di dire se l'utente gli ho chiesto il nome mi ha risposto qualcosa o ho battuto invio senza scrivere nulla cioè questa stringa è la stringa vuota o no? il modo corretto è dire confrontiamo se s è uguale o diverso dalla stringa vuota la scorciatoia è dire semplicemente if s se s è la stringa perché questa stringa viene automaticamente convertita a un booleano perché in un contesto di una if lì serve un booleano e la regola di conversione a booleano delle stringhe dice che se non è vuota è true se è vuota è false no? quindi if s è equivalente a dire if s non è vuota questa è la regola che sto applicando che guarda caso è identica a questa quindi mi va bene no? la posso sostituire in questo modo quindi a volte sembra che manchino degli operatori di confronto se sembra che manchino degli operatori di confronto è perché chi ha scritto il programma sta usando queste conversioni implicite di tipo siete presente che python non fa molte conversioni implicite preferisce diciamo così normalmente che vengano applicate in modo esplicito ok sempre parlando di confronti c'è un'ultima casistica di confronti che poi ci si sbloccherà tanti esercizi possibili tra cui uno che vi proporrò poi negli ultimi tre minuti cinque è degli operatori che vadano a fare confronti all'interno delle stringhe cioè di un numero intero o è uguale maggiore o minore è finita storia no? una stringa o è uguale o diverso o minore ma magari una stringa contiene un'altra stringa contiene un carattere contiene tante ripetizioni di un carattere eccetera le stringhe sono un dato complesso strutturato e quindi posso confrontarle in quanto tali a blocco tu sei uguale o diverso da un'altra ma posso anche andare a interrogare il loro interno ad esempio c'è un operatore in che si chiede se una determinata stringa è contenuta all'interno di un'altra stringa contenuta nel senso che esiste nella stringa seconda una sottosequenza di caratteri consecutivi che sono identici a quelli che sto cercando c'è John Wayne e mi chiede way è compreso nel nome in questo caso è true sì perché a un certo punto da qualche parte dentro la stringa in particolare partendo da qua compaiono questi tre caratteri questo in funziona come un maggiore o un minore cioè if way in name mi da un valore booleano che posso usare tranquillamente nelle if nelle condizioni ok quindi se voglio cercare qualcosa all'interno di una stringa c'è già l'operatore per farlo non è un uguale cioè non richiede che la stringa sia identica ma che una sua porzione sia identica poi ci sono altri casi ad esempio se la stringa finisce con certi caratteri allora un metodo della stringa questo è un nome di una stringa ends with tronga più piccola questo si chiede se gli ultimi caratteri di una stringa data sono uguali a quelle che ho specificato tutti questi metodi in ends with eccetera quelli che vedremo restituiscono tutti dei valori booleani quindi sono adatti a essere usati direttamente dentro una if oppure dentro una condizione booleana più complessa stars with è il cugino di ends with quindi va a controllare i primi caratteri di una stringa se sono uguali o no poi ci sono altri due metodi interessanti count conta è una sorta di in più potente l'in ti dice se una sottostringa c'è o non c'è count ti dice quante volte c'è nel caso in cui ci sia quindi se la sottostringa non c'è count ti dice zero se c'è ti dice uno se c'è due volte ti dice due e così via quindi puoi contare quante volte un carattere o un gruppetto di caratteri compare consecutivamente all'interno della stringa in cui stai cercando no? che ne so io voglio posso fare ho una parola che è abracadabra e mi chiedo se la b minuscola è presente nella parola sì ma quante ce ne sono di b? parola.count b e ce ne sono due e di sequenza br ce ne sono anche due e di sequenza b e così via no? c'è qualcosa che compare tre volte? sì le a cinque volte addirittura e così via no? conta il numero di volte che quella sequenza che gli passo compare quindi poi andrò a dire se il count è maggiore di zero se il count è maggiore di due eccetera eccetera oppure ho il metodo find che data una parola mi dice qual è l'indice data una sottostringa qual è l'indice della posizione in cui compare zero vuol dire che la prima lettera è una A se io facessi una B mi dice un 1 perché la seconda lettera è una B la D sarebbe in posizione non è 6 quindi a settima posizione se io vado a vedere parola di 6 effettivamente è una D quindi in mi dice se c'è count mi dice quante volte c'è find mi dice dov'è la prima volta se ce n'è più di una volta lei va a trovare solamente la prima quindi possiamo usare per andare a interrogare una stringa per capire cosa c'è dentro no? e se per caso non c'è niente se ha Z allora find di una cosa che non c'è restituisce un valore strano che è il meno 1 meno 1 non può essere un indice normale e quindi quando restituisce meno 1 vuol dire che la stringa non c'è il count mi restituirà 0 e il in mi restituirà falso quindi sono modi per chiedersi se quante volte e dove si trova una sottostringa o un carattere all'interno di una stringa più grande poi ci sono le funzioni che vanno a chiedersi che tipo di caratteri contiene la stringa sono tutti numeri sono tutti lettere sono tutti lettere maiuscole sono tutti lettere minuscole e così via quindi ad esempio la mia parola abracadabra è fatta tutta da lettere minuscole sì è fatta tutta da lettere maiuscole no è fatta tutta da lettere sì cioè va a vedere se all'interno di una stringa ci sono tutti i caratteri se ce n'è almeno uno che non quadra allora il risultato è falso ci sono tutti i caratteri di una stessa famiglia di caratteri può essere utile soprattutto le list digit per vedere se ci sono solamente numeri e allora se ci sono solamente numeri sicuramente è una valida rappresentazione per un numero intero purtroppo il numero intero può anche avere meno davanti e quindi il digit non è una buona funzione che mi dica se è un valido numero intero però ci aiutano a scoprire queste cose quindi queste metodi delle stringhe insieme all'operatore in mi permettono di costruire dei confronti più complessi perché le stringhe sono un dato più complesso poi se andate a vedere la documentazione di stringhe ce ne sono anche altre di questi metodi allora mettendo insieme il tutto ok mettiamo insieme i condizionali la possibilità di fare cose diverse a seconda del valore di un qualche confronto mettendo insieme il fatto che i confronti li possiamo rendere complessi mettendo insieme condizioni più semplici attraverso and or not e mettendo insieme la capacità di analizzare all'interno di una stringa ok allora io vi lancio un esercizio che poi faremo insieme la prossima volta ma nel frattempo cominciate a pensarci che è quello della briscola sapete giocare a briscola? programmiamo un primo pezzo poi dopo ci aggiungiamo dei pezzi allora sapete come si gioca sapete tutti come si gioca briscola? no? vabbè essenzialmente ci sono si gioca con un mazzo da 40 carte quindi c'è l'asso due, tre, quattro, cinque, sei, sette fante, donna, re se giochiamo con le carte francesi se si giocano le carte napoletane saranno invece sono il fante, cavallo e re e i semi sono coppe, spade però purtroppo in unicode non ci sono l'ho cercato oggi non c'era il coppe, spade, denari però ci sono cuori, quadri e picche e quindi diciamo le carte francesi si un mazzo di 40 carte per i semi cuori, quadri, fiori e picche usando le carte francesi ok? quindi 10 carte per quattro semi le carte le carte hanno un valore in cui l'asso vale 11 il 3 vale 10 punti il elefante vale 2 punti la donna o cavallo che sia vale 3 punti il re vale 4 punti tutte le altre carte non valgono un tubo ok? allora come si gioca le singole mani? si danno le carte 3 carte a testa di loro sono 4 giocatori e si gira una carta in fondo al mazzo quella carta in fondo al mazzo dà il seme di briscola così detto quindi può essere una carta di cuori cuori con la C una carta di cuori briscola cuori oppure fiori oppure picche quello che capita per tutta la partita il seme di briscola in questo caso cuori è speciale vince sugli altri poi lo svolgimento della mano è banale nel senso che il primo di mano mette giù una carta qualunque e tutti gli altri devono a loro volta mettere una carta che tutti e quattro hanno messo una carta uno dei quattro vince e si prende tutte le carte e poi si ricomincia così con la mano successiva qual è la regola che cominciamo a implementare oggi con cui si vince? vince la carta più grande ma la briscola vince sui semi cioè se io ho un sette di picche e un fante di picche cos'è uscito? vince il fante di picche vince il fante di picche quindi chi ha messo il fante di picche si prende tutto se io però ho un sette di cuori che per sé sarebbe una carta sfigata ma cuori e briscola quello vince a meno che su quelle quattro carte non ci sia una briscola più grande di lei quindi io butto una carta può essere di un qualunque seme per vincere quella mano qualcun altro deve mettere un'altra carta più grande della mia dello stesso seme oppure una carta di briscola se c'è almeno una carta di seme di briscola vale quella che vale di più ok? dette un po' rapidamente allora noi cosa vogliamo fare? vogliamo fare un programmino che è data ci sono dati tre informazioni vai fambagno cosa fai? dati il seme di briscola della partita corrente che può essere appunto cuori quasi fiori o picche una carta di un giocatore che tipicamente è la somma di un valore quindi potrebbe essere un tre di fiori potrebbe essere un asso di picche eccetera possiamo indicarla così come una piccola stringa come stringa dove il primo carattere è il valore ed il secondo è il seme poi una seconda carta dello stesso tipo cosa deve fare il programma deve determinare se ha vinto il primo o il secondo giocatore ok? se il secondo giocatore in base alla regola del gioco mette un seme diverso da quello del primo va perso a meno che non sia una briscola quindi il gioco va fatto sul seme del primo giocatore della prima carta quindi appunto se io metto un tre di fiori che è una carta potente il tre vale dieci punti e tu mi metti che ne so un asse di picche e picche non è la briscola hai perso anche se l'asso è più grande del tre perché vale più punti ma non è del seme giusto quindi per vincere tu devi mettere una carta una seconda carta dello stesso seme o del seme di briscola noi abbiamo queste due tre stringhe il seme carta uno, carta due dobbiamo dire che sta vincendo scatenatevi e lunedì lo facciamo insieme buon laboratorio della settimana